Da che cosa nasce questo progetto di creare questa squadra? Nasce soprattutto dalla passione di alcune ragazze che hanno voluto intraprendere questo passo e mi hanno chiesto espressamente di poter valutare, di poter formare una squadra. La nostra è l'SD Sport in Bari Calcio A5, militiamo nel campionato di C2 e di Calcio A5, il girone B e in più facciamo anche il campionato Juniors e partecipiamo nel girone A. Questo progetto nasce dalla passione di tutte le ragazze per il Calcio A5, questa è una realtà che è poco conosciuta, con la passione, la voglia e l'impegno di tutte le ragazze ma soprattutto con il gruppo, secondo me si riuscirà a creare una squadra coi fiocchi. Non essendo uno sport frequentato nel settore femminile, non ho mai avuto la possibilità di partecipare. Adesso che il mister Luca Cittarella ci ha dato la possibilità, sicuramente non lo deluderemo. Per me è nata come una passione tre anni fa, infatti con alcune ragazze abbiamo creato una squadra a grumo e di là la passione è sempre più aumentata. Speriamo che grazie al mister e grazie comunque a un bel gruppo che siamo noi riusciamo a creare una prima squadra barise, appunto lo Sporting Bari femminile. La cosa che chiediamo ovviamente è che purtroppo su Bari non abbiamo tutte queste forze per poter sostenere tre squadre, quindi necessariamente avremo bisogno sicuramente di aiuto anche da parte di tantissimi sponsor ovviamente, anche perché effettivamente i costi per poter affrontare un campionato della FGC sono abbastanza alti.